Signor Erickson, conosce le lingue romantiche, il francese e l'italiano? Sì, signorina Pringle, le insegno. Mi chiedo da dove derivi il loro nome. Ha a che fare con Roma, l'antica Roma. Viene dal latino. Quindi è solo una coincidenza che sembrino così romantiche? Sa, adesso sto pensando di passare a economia. Che la signorina Pringle venerirei. Ray. Posso fare assolutatissimamente qualsiasi cosa?